Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua anche oggi con una nuova classifica. Ebbene sì, siamo qua con la classifica delle Rainbow High più belle secondo me. Ne ho selezionate 10 più belle e 10 più brutte, ma oggi guardiamo solamente le 10 più belle. Ovviamente ho tenuto in considerazione tutte le linee uscite o che stanno per uscire, quindi ci sono la Serie 1, la Serie 2, le Cheerleader, le Winter e anche le Twins. Sì, le ho proprio considerate tutte, comprese anche dei playset e dei pacchi extra, quindi erano tantissime e ne ho scelte solamente 10. Ma so che siete curiosi, quindi partiamo subito. Alla decima posizione troviamo una bambola che non avrei mai pensato di mettere nelle più belle solo per il suo colore ed è Sunny Madison, ma è Sunny Madison nella versione Cheerleader. L'ho messo al decimo posto delle più belle perché mi piace, mi piace il fatto che abbia questi codini frisè, mi piace il fatto che ricordi un pochino l'acconciatura di Sailor Moon, come anche nell'altra sua versione classica, nella sua versione base. Il suo outfit in questa linea Cheerleader è forse quello che preferisco tra tutte, ma per i miei gusti non si merita una posizione più alta perché non mi piacciono assolutamente quei segni che ho in faccia e l'idea in generale della Cheerleader non mi fa impazzire, anche se vi devo dire che comunque lei ha un viso che mi piace veramente tantissimo e infatti credo che prima o dopo una sua versione l'acquisterò, anche se magari non questa, ma comunque il suo viso è veramente molto bello. Alla nona posizione invece, andiamo subito così a bomba una dietro l'altra, ne troviamo una che secondo me è molto particolare, io almeno la trovo molto particolare e sto parlando di Karma Nichols, spero che i nomi siano giusti, che è quella diciamo verde lime della serie 2. La trovo forse un po' più semplice in confronto alle altre perché ha i capelli semplicemente lisci, mi sembra avere qualcosina meno, qualche dettaglio in meno, anche se non è vero che ha dettagli in meno ma ha dettagli diversi che risultano più semplici. E lei, a parte il fatto che mi piace tantissimo la sua carnagione, mi piace anche un sacco la sua carnagione abbinata al suo colore di capelli, mi piace veramente da morire. L'outfit non mi piace ed è per questo che è solamente alla nona posizione e non più in alto, ma il suo viso penso che sia uno dei visi più belli del Rainbow High. Mi piace veramente tantissimo il trucco che le hanno fatto, mi piace da impazzire. Peccato che l'outfit mi faccia abbastanza schifo e quindi sia crollata così in basso. Il colore per quanto mi piaccia non è tra i miei preferiti e quindi la nona posizione è giusta, non poteva andare né più in su ma neanche più in giù. Non è né tra quelle più brutte, né tra quelle che non ho inserito in nessuna classifica, meritava una posizione in questa e gliel'ho trovata qui alla nona. È in fondo, ma almeno c'è. Comunque rimane tra le più belle. All'ottava posizione troviamo una di quelle che ho già, ma non di preciso una di quelle che ho già, nel senso che ce l'ho già perché è Violet Willow, ma nella versione Winter Break. Mi piace tantissimo. Se avessi saputo che sarebbe uscita una versione di Violet in questo outfit vestita così, non avrei comprato quella che ho comprato. Non ha la frangia e il fatto che non abbia la frangia mi piace molto. Mi piace l'outfit perché comunque lo trovo invernale ma non da neve, nel senso che è un outfit comunque invernale con la giacchetta, ha anche una seconda giacchetta molto carina, entrambi gli outfit sono molto carini. Mi piace la gonna, mi piacciono le calze, mi piacciono gli stivali. Diciamo che mi piace particolarmente e quindi, boh, mi piace, vi giuro. Se potessi tornare indietro nel tempo non comprerei quella che ho comprato per aspettare questa, ma probabilmente comprerò anche questa e probabilmente anche tutte le prossime nella classifica. Wow, addio soldi. Alla settima posizione ce n'è una di cui non so pronunciare il nome. Ce l'ho scritta qui e si chiama Laurel, 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 The Views, una cosa del genere, che è semplicemente una delle due twins, quella rossa. L'ho messa nella classifica delle più belle perché, come sapete, quando vi ho parlato appunto di tutte le novità, vi ho detto che quella rossa mi piaceva tanto, mi piace veramente tanto. L'unica cosa che non mi convince, infatti è solamente a questa posizione e non più in alto, per il fatto dell'outfit. Non mi piace molto. L'outfit lo trovo troppo semplice, troppo tutto uguale, avrei preferito avessero usato un pochino di più, però il suo viso, il colore dei capelli e tutto mi piacciono, anche se generalmente non amo il rosso e preferisco il blu. Ma in questo caso, come vi ho già detto, la sorella blu non mi fa impazzire e invece lei mi piace molto. Spero di poterle acquistare, spero di poterle vedere, spero di recensirvele, ovviamente, e di potermi ricredere anche sul discorso outfit, ma per ora veramente non riesco a metterle in una posizione più alta, anche se il viso con gli occhietti è un pochino più piccoli, mi piace veramente da morire. Alla sesta posizione ne troviamo una invece, e penso mi pare sia la prima, no? È vero, c'era anche già l'altra, della Wave 2. E sto parlando di Bella Parker, quella rosa, ma ragazzi, Bella Parker l'ho inserita per il secondo outfit, con cui arriva in scatola. Non quello, diciamo, che indossa già di suo, ma il secondo. Con il primo non mi piace molto, con il secondo mi piace tantissimo. Soprattutto una volta fatta la coda, sapete che alla mia ho messo il secondo outfit, ho fatto la coda e mi piace tantissimo. L'avrei messa un pochino più in alto, però lei non viene venduta con questo outfit, lei viene venduta con l'altro, purtroppo, e di conseguenza ha quel qualcosa che non mi torna. Poi la pelle forse è un pochino troppo chiara per i miei gusti, però comunque, ragazzi, non possiamo negare che sia bella. Ve l'ho recensita, ve l'ho detto che era bella. Il corpo, ragazzi, non mi piace, ma è una cosa di tutte queste bambole, e quindi non sto qua neanche a ripetervelo. Ma dai, se sta posizione, ci sta, che dite? Alla quinta ne abbiamo un'altra per lo stesso motivo, perché mi piace molto di più con il secondo outfit, con fronte al primo, e proprio per questo motivo non l'ho messa più in alto, anche se vi devo dire che mi piace forse più di altre, ma appunto con il secondo outfit. E sto parlando di Sunny Madison, di nuovo la ritroviamo anche se è gialla, ma la Sunny Madison della Wave 1, quindi la base. Con l'outfit con cui arriva, con queste cose rainbow, con questo abitino plissettato, non mi piace per niente. Invece con il secondo outfit, con i jeans, il top, la trovo molto molto più bella, mi piace tantissimo. I capelli mi ricordano sempre Sailor Moon, queste Sailor Moon vibes a me fregano tantissimo, lo sapete, mi faccio sempre fregare da tutto ciò che ricorda Sailor Moon, quindi figuratevi. Purtroppo è gialla. Fosse stata di un altro colore, forse l'avrei preferita, forse anche se con il secondo outfit, ma l'avrei messa più in alto. Ma tra il giallo e il fatto che, come è in scatola, non mi piace, purtroppo più della quinta posizione non ho potuto darle, anche se, ripeto, con il secondo outfit, mi piace veramente tantissimo. E so che invece molti con il secondo outfit lei la odiano, non so perché tendo a avere i gusti molto strani confronto, diciamo, la maggioranza delle persone, però va bene così, sono diverso e ci sta. Per la quarta posizione, per la quarta posizione, torniamo nella wave 2 e troviamo Stella Monroe, quella fucsia. Di lei, diciamo che, non sto lì a guardare il primo o il secondo outfit, perché è veramente molto bella di suo, mi piacciono questi occhioni azzurri, mi piacciono i capelli fucsia, sono tantissimi i suoi capelli, sono morbidissimi, sapete, anche lei ve l'ho recensita insieme a Bella Parker e, ragazzi, la trovo bella. La sua giacca è fatta benissimo, la gonna un po' meno, i vestiti, come sapete, macchiano un pochino la pelle, però io devo guardare quelle che mi piacciono, non quelle che sono fatte bene, non quelle dove hanno curato meglio dettagli, quindi questa cosa del macchiare la pelle, facciamo finta di non averlo visto in questa classifica. E quindi, per forza, la quarta posizione, anche perché le hanno dato un punto di azzurro, che con il punto di fucsia che ha nei capelli, secondo me, risalta tantissimo. E, a differenza di molte altre che hanno il colore degli occhi abbinato al colore principale, tipo, se non sbaglio, Bella Parker, agli occhi sul rosa lilla, se non sbaglio, abbinato appunto al suo colore, in questo caso, su di lei hanno fatto proprio questo occhio così azzurro, così chiaro, così sparato, che va in stra-contrasto con i capelli fucsia e secondo me l'hanno azzeccata tantissimo, che forse è un po' anche quello che piaceva a me quando avevo i capelli fucsia e quando forse avrò di nuovo i capelli fucsia, perché sto valutando di rifarli, questa volta però tutti, non come prima solo il ciuffo, forse anche su di me risaltavano molto appunto per la carnagione chiara e gli occhi chiari. E la stessa cosa la vedo in lei, quindi, sì, assolutamente quarta posizione. non più in alto perché le altre tre mi hanno rapito e infatti, ragazzi, devo dire che dicevo che non avrei più acquistate e invece mi toccherà acquistarne. Perché? Perché, perché? Perché MGA sta per rilasciare le Winter Chill. Sono le Winter Chill? Winter Break, scusate, mi perdo con tutte queste uscite, non ci sto più dietro e devo aggiungerne per forza un'altra delle Winter Break e sto parlando di Poppy Rowan, quella arancione, che nella sua versione basic è invece qui, ragazzi, mi piace tanto, tanto, tanto. Ha questo outfit un po' scolaretta, un po' puttanella, un po' innocentina, un po' non lo so, è un mix di tante cose perché questi paraorecchi, la giacchetta sono molto carini, però la giacca, ad esempio, è molto corta e lascia vedere un po' la coscia con le calze alte fino sopra il ginocchio che mi piacciono sempre da morire. Nel secondo outfit ha una giacca che mi piace da morire, quella a scacchi la trovo stupenda, per il resto ha un vestitino molto semplice, ma mi piacciono anche i tessuti che hanno scelto, non apprezzo particolarmente il colore perché è un tono di arancione che, non lo so, devo vederlo dal vivo, visto così nell'immagine di stock non lo so, spero che non sia così sbiadito ma che sia un pochino più acceso. In ogni caso, terza posizione ultra meritata perché veramente sono riusciti da una bambola che non avrei mai calcolato, vi dico la verità, una di quelle che quando è uscita non mi ha fatto dire né wow, né schifo, né niente, inutile proprio, cioè l'ho trovata inutile anche se molti sono impazziti per le farfalle, io l'ho trovata assolutamente inutile, quindi vi ho già spoilerato che non ci sarà neanche nella prossima classifica, ma vabbè, piccolo spoiler, è lo stesso. Sono riusciti a trasformarla e renderla ai miei occhi, ai miei gusti veramente molto piacevole, infatti mi piace tantissimo e non vedo l'ora di acquistarla. Come vi dicevo, ho deciso di completare i colori dell'arcobaleno comprando le bambole anche se di diverse linee che mi piacciono, quindi non andrò a comprarle assolutamente tutte ma comprerò magari l'arancione della linea winter break perché mi piace lì, comprerò magari il viola di un'altra linea, eccetera, e delle winter break credo che mi toccherà fare un po' man bassa. Arrivando alla seconda posizione, però, alla seconda posizione vi stupirò, vi stupirò perché io so che voi siete sicuri della prima posizione, so che siete convinti di sapere qual è la mia prima posizione e invece no, vi state sbagliando, sono sicuro che non lo sapete. Perché? Perché quella che secondo voi è la prima posizione io l'ho messa alla seconda e sto parlando di chi ha art, lo so. Adesso non fate quelli che mi dicono lo sapevo perché non lo sapevate, sono sicuro che eravate convinti che l'avrei messa per prima e invece no, l'ho messa per seconda. Perché l'ho messa per seconda? Perché perché ce n'è un'altra più bella, ce n'è un'altra che mi ha colpito contro ogni aspettativa di più, se no lei sarebbe stata assolutamente alla prima posizione e anche ultra meritata. Mi piacciono i capelli, mi piacciono i colori dei capelli, mi piace il colore di pelle, mi piace la stampa del viso, il trucco che l'hanno fatto, mi piace tutto, mi piace veramente tanto, mi piacciono i suoi outfit, ragazzi vi lascio qui la sua recensione, facciamo prima e andate a vederla, vi dico tutto quello che mi piace, tutto quello che non mi piace, che è gran poco e quindi praticamente lei è una prima posizione rubata, infatti secondo me sarà un po' incazzata perché secondo me anche lei se l'aspettava la prima posizione e invece no, come sapete sono imprevedibile. Ma quindi arrivando alla prima posizione, anche oggi vi faccio indovinare, quindi iniziate a scrivere qui, provate a indovinare qui sotto. Ovviamente se indovinate vi lascio tutti i cuoricini, provate a scrivere qui sotto quale, tra tutte quelle che non vi ho detto, quindi pensate bene, ne mancano molte della prima Wave dove se non sbaglio praticamente ho preso solo Sunny Madison finora, ne mancano alcune della Wave 2, manca ad esempio la nera della Wave 2, sapete che io amo le carnagioni scure, manca il maschietto, mancano praticamente tutte le cheerleader, mancano, vediamo anche alcune delle Winter Break, mancano. Quindi avete scritto, mi raccomando, indovinate qui sotto e la prima, la prima posizione ho messo Skylar Bradshaw, se così si dice, la blu delle Winter Break. Ragazzi, quando l'ho vista mi sono innamorato, non amo il suo colore perché non lo so, nella sua Basic non mi è mai piaciuta, vi dico la verità, non mi è per niente piaciuta la Basic di questa bambola anche perché il jeans così non mi piaceva. In questo caso è wow, nelle immagini di stock è wow, la tutta da neve che l'hanno messo è wow, la giacca è wow, la seconda giacca con il pelo è wow, ha lo snowboard che io amo, cioè amo nel senso ci sono andato una volta in snowboard, mi sono divertito, mi stavo per uccidere ma mi è piaciuto e non lo so, mi piace veramente un sacco, ce l'ho qui, la sto guardando, ecco, mi fanno cagare i pantaloni con cui arriva, i pantaloni del secondo outfit sono orrendi ma lei vestita così con questa tuta mi piace da impazzire e spero che rimarrà così anche quando ce l'avrò tra le mani perché sì, sicuramente l'acquisterò e lei sarà la blu del mio arcobaleno. So che non ve lo aspettavate ne sono sicuro perché ragazzi non me lo aspettavo neanch'io quindi se ve lo aspettavate voi vuol dire che siete dei veggenti e mi ha veramente stupito questa cosa perché le ho riguardate tutte come faccio sempre me le studio perché non voglio fare classifiche così buttate a caso le faccio perché sono divertenti perché sono leggere perché sono dei video anche leggeri da vedere per voi ma io cerco di farle con cognizione di causa farle cercando studiando e guardando tutte le immagini che posso trovare e non me l'aspettavo mi ha veramente stupito sono rimasto a bocca aperta quando l'ho visto ho detto no è impossibile impossibile e invece prima posizione quindi arrivati in fondo a questa classifica ammettetelo che un po' vi ho stupito ammettetelo scrivetemi anche quello qui sotto se sono riuscito a stupirvi un pochino come sempre ragazzi adesso tocca a voi scrivermi qui sotto qual è la vostra preferita delle rainbow high me ne basta una scrivetemene solamente una magari modificate il commento scrivete un altro commento scrivete tutto quello che volete ma scrivetemi oltre ad aver provato di dovinare mi raccomando scrivetemi qual è la vostra preferita che sono curioso io spero di avervi tenuto compagnia spero di avervi strappato un sorriso adesso vado subito a registrare la prossima classifica delle più brutte che ho già scritta qui e non vedo l'ora di pubblicarvela perché anche lì ce ne saranno delle belle io come sempre vi ricordo di lasciarmi qui sotto un like di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va di seguirmi anche su Instagram intanto ragazzi vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao